Mi chiamo Andrea Baricco, sono al quinto giorno in Vitale Immobiliare e per il momento devo dire che l'esperienza è positiva perché mi porta fuori a fare un lavoro che è di tipo relazionale, che è quello che ho sempre fatto e che mi piace fare e vorrei farlo. Il tutor mi sta aiutando, ho la fortuna di averlo già conosciuto precedentemente, quindi abbiamo anche un rapporto più diretto e quando bisogno lo chiamo, gli scrivo e ho risposto. Andrea ha iniziato lunedì questo percorso insieme a noi e come tutti sta cercando le sue prime 30 notizie e ci sta mettendo un sacco di impegno. Quanto siamo? 16 notizie. Ho fatto un mio livello, sai? Ho ricevuto formazione diretta in ufficio, ho ricevuto dei video di formazione che aiutano a svolgere meglio queste attività iniziali. Il mio dubbio più grande lunedì quando ho iniziato era riuscire a credere che ci fossero così tanti immobili da vendere. Ce ne sono una quantità spropositata. Per il momento ho trovato 16 notizie valide, più chiaramente altre che magari erano già a conoscenza, di cui l'agenzia era già a conoscenza, però devo assicurare che si trovano. 16 valide in 4 giorni. Si può assolutamente fare. Vitali Immobiliare. Tutta un'altra agenzia.